Sabato 27 ottobre alle 21.15 nella chiesa di San Paolo Apostolo al Vallato verrà trasmesso il messaggio di Papa Francesco per la cinquantonesima giornata mondiale della pace. La serata dal titolo Dialoghi di pace, che verte sul tema dell'integrazione, della conoscenza e dell'accoglienza, però inizierà prima a Casa Archilei, dove alle 20.45 si terrà alla patrona dei migranti le letture sull'Aia dagli scritti di Santa Francesca Saverio. Dopodiché una breve passeggiata fino alla chiesa, anche in caso di pioggia, in bici o anche a piedi. Il dono più grande che abbiamo a livello delle famiglie, a livello delle città, è proprio quello di vivere in pace, mettendo insieme le differenze. Un mondo diverso, sono le razze, sono le lingue. La diversità non è una sconfitta e non è un'occasione di divisione, ma è un'opportunità. Cose che oggi stanno riemergendo. Io vedo che purtroppo questo aspetto è forte e quindi dovremmo riportare proprio al centro delle nostre attenzioni l'educazione alla pace. Quest'iniziativa che tocca a Casa Archilei e tocca alla parrocchia di San Paolo vuole essere proprio un, potremmo dire, un messaggio alla città di Fano perché non si chiuda nel Fano, nel Tempio, ma si apra un po' al mondo e sia veramente consapevole che se vive la pace allora anche Fano sarà più vivibile. La pace o la si fa tutti insieme o non si fa. Sta in questo messaggio trasversale a politico e interreligioso il senso di questo incontro con moltissime associazioni del territorio, religiose e laiche, e i cittadini, uniti con un unico messaggio, ovvero sia costruire la pace. Sì, un appuntamento importante è quello di Dialoghi per la Pace, un appuntamento che vede un cartello di oltre 30 associazioni laiche e cattoliche che si ritroveranno sabato sera per un momento di condivisione e di riflessione che inizierà alle 20.45 presso Casa Archilei e proseguirà poi alle 21.15 presso la Chiesa di San Paolo al Vallato. Un appuntamento che vuole riprendere, partendo dal messaggio alla 51esima giornata mondiale della pace di Papa Francesco, alcuni temi, in particolare quelli legati da un lato all'accoglienza e all'integrazione dei migranti e dei rifugiati e dall'altro un altro tema importante che è quello della sostenibilità ambientale. A fine serata un brindisi per la pace ecosolidale con l'invito degli organizzatori di portarsi da casa un bicchiere o una tazza non usegetta però e come consiglio spassionato per gustarsi al meglio la serata dimenticarsi il cellulare.